A presto 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 ciò che sbbsè bada risa Povitrata, daivigun e servis e sforzata bhi ho Povitrata dharan non è non è non è non è non è non è Povitrata non è non è non è non è per Povitrata vritti se stiamo dic e che Vritti sa nittà. Orvoganga Bapke bina Shurru nahin ho sakti. Siamaj ki bàat hai Bacchou ke liè. Bacchi kheate t'o Che è che Hem pavitra hai Aparni vritti Kocche kare Koi bhi Tumè che grazie a tutti disunderstanding hai avitrata in me ne hai avitrata ya de me hai tu m'agher apne co paritra che te ho to basitna batav ki tum bapko kitana ya de karate ho capito non è Svattico Dianne Raka Avitrata Ki Ganga Bapke Maathè Pera Bapke Yadze Se Hi Voha Aapke Vritti Mere Bhe Ghi Or Vritti Se Karmo Tuk Or Karmo Se Dunia Mere Pohuncha Ghi Smajh Ki Baphe Bacchio Ke Liet quindi se l'essere se tu ager pavitra bannà chanate ho bapke laic bannà chanate ho to'e qui uppai è basta bapko ricordate ricordate e qui è d'usere bapakethe 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 daivigun tu m kuch practice karke nai dharan kar sakti daivigun ko bhi bapse hivarna padega kisì or ke paas manushya ke paas ya gyan me daivigun naihi hai gyan me pavitrata naihi hai sab kuch bap me bap ke paas hai isa liye bap ko yad karne se hi ya milega or babakethe servis ki safal ta tum bach bach baut bhaag rèo servis ke pichhe servis bhi bap ki yad me hi hai tum 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 baap ko yad karne ki yatra ke pichhe lago jis yat 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 yah s yat 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 chi si ha fatto? Appone to nàam rupo se kia Body Consciousness se kia Tò bapko yad kia hì nè appone Baba kiette Atmah s'majhke Mujh bapko yad karna hai Manah Itnè varsha ho nè Ke bavujud Tum tumhare sattisvarup Mene nè a pà rè ho Kittinì Baba kiette Kheed jannak bàt hai Sunne ko kittinì Buri lag rè Khi itnè varsho ke bavujud Tum atmah ho Yhe sattisvarup Jho tumhara hai Usmeh tum nahi a pà rè ho S'majh hai Manah tumhye bàr bàr Appnè ko bata na pade ta hai Khi mai atmah ho Aisai gyan ho ta hai Khi khud ko hi bàr bàr bata na pade Khi mai atmah ho S'majh ki bàt hai Kya padha hai hai Phrir bacchou ki S'majh hai Yad bhi chhođ du Yad dùr ki bàt hai Tum kitnè varsho se Khi bàr 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 Aisai koji skool, university, college ho ga Khi jis mei ek saal se Sorry, ek hi kakshah me Koii 80 saal tak pardhata rhe Ek hi kakshah me 80 saal se pardhata rhe Baba kaitte vichar karo Ketnè varsho ho ghe tumhe Tumh atmik siti mei Nahi aan paa rhe ho Kaha kami hai Tumhare nishay mei kami hai Nishay mei kami hai Samajh ki bàat hai bachyok ke liye Bachy samajhti nahi Nishay paka karo Sabse badhi bàat hai Bachyokko bàap par nishay nahi Jabtak sikhane wale par Gjyan dene wale par nishay na ho Voh gjyan dharna mei nahi aasakta Is baat ko dhyan mei rakhna Koi bhi gyan Dunia ka Sirf is gyan ki baat nahi hai Dunia ka koi bhi gyan Agar aap lena chahate hai To dene wale par Aapka nishay hona chahe Pura-pura Tabhihi Voha pura gyan Aapke anndar utrhega Varnah aap laakh košish karo Us gyan ko aap Dharan nahi kar paheng Yeh rule hai Yeh niyam hai Yeh qaida hai Is dunia ka Nishay ke adhar par hi Aap gyan ko dharan kar paheng Nishay ke adhar par Jitna nishay Utni dharana Isi liye Bacchyo ki Itanye lambay Sumayi se Atmik siti Na honen Ka karan Eka hi hai Saunshay Baapke upar Nishay ki kami Bacchyo Bacchyo Khi baba ma tu mi conosciuto questa cosa inizia non ci sia qualcosa non ci sia ci sia ci si diventa ci si dice ci ci si a chi si guarda a chi guarda brahma baba mamma si guarda questo è un nishio che ti guarda 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 e guarda guarda che mi ha un nishio il nishio il nishio il nishio il nishio buddhi vijayanti bava nè nishio nishio buddhi vijayanti nishio buddhi vijayanti dhyan rakhna nishio 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 Non mi sembra che tu hai raggiato, ma non mi sembrava. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 tu prendi stitini che mi stitini come si è come si è tu mi ricordi che pari tu mi ricordi tu mi ricordi ma tu mi ricordi non pensi ma 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 non 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 Il nostro corso gratuito, Grazie a tutti. ebbe sì, è stato un lavoro per la vita, non è stato un lavoro per la vita, è stato un lavoro per la vita. E' stato un lavoro, la vita, è stato un lavoro. Il babà mi diceva, la vita è il mio topic. Il tuo tuo topic è un'altro, è il tuo 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 è il tuo tuo. Il tuo tuo è il tuo tuo. Tu d'essere del tutto. che ci sono i due sottili e tutti i due sottili questo è il bambino che non ci sono bambino non ci sono bambino che ci sono che ci sono che ci sono che ci sono e quando ci sono non ci sono non ci sono Tabbé tutta la nostra 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 stessa. Bape tommi mai rosa sui alig alig bati. Si è il modo che ti dà più rosa di andare? Non, prima la panna farò. Poi la panna con la tua mente, 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 la tua mente. Poi, la tua mente, la tua mente, la tua mente, la tua mente. Bapete farò la, la mia, la tua mente. Poi la prima cosa è? attraverso una attimik siti in cui app5 la attimik siti in cui è piaccato qui attraversoso quello che è piaccato l'imitante cosa sia di una attimik siti in cui è piaccato la parola山 e il suo Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info vabbà dice che come sports di bambino, vabbà dice che come seno, vabbà dice che come si siamo diventi, vabbà dice come si romperi, tutti i figli del bambino. è tutto bambi che bambini non ciò che non c'è non c'è è l'occasione che ciò che dice tu appone mind mind manna buddhi cosa chi la cosa che basta qualche 4 4 4 4 4 4 4 4 non resta non resta non resta pensare e poi andare andare non resta molti bambini mi bambini mi bambini e non non ci si ma non non cu그� Claro si Il nostro corso il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito. Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito. Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito. Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito. Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito. Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito. Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito. Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito. Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito. Il nostro corso gratuito. Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito. Grazie. 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 e s'è il momento Grazie per la visione